Ragazzi buongiorno, 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 buongiorno e bacino un bello bacio a tutta Castel di Sangre, i frutti vendoli di Castel di Sangre, e fiora la frutta se sta tutta cosa qua nel mercatino, come buoni da così votano, va bene? Baci da tutti quanti loro, salutate. Signori buongiorno, il signore ora ci fa provare il caciocavallo, facciamo un prodotto tipico abruzzese, caciocavallo nostro locale con latte di raccolto, un prodotto di alta qualità, alta qualità, a tempo del gusto, proviamo questo caciocavallo nel formaggio, vorremmo come fa? Caciocavallo, proviamo questo caciocavallo, va bene? Che bello, ragazzi, comunque troppo bello. Uè ma non posso camminare pure qua, mi ha riuscito? Ok, ok. Ho detto ieri, portatemelo. Poi quando vanno da assi agenti, so come Anna, però si so, caracazzo, a questa bella fiesta. Amore, non mi preoccupare, vieni, vi accottenere, buongiorno signora, vieni. Com'è bello, saluta tutti, ciao. Lui si chiama Cosimo. Cosimo, che bello che è, che occhi temi che hai? Vieni, signora, 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 signora. Io che sei, la cioccolata la vuoi? Sì. Frida, zia, mangia la cioccolata. Com'è bello. Che bello, che bello. Anzi, ho bello che non vuoi, che non vuoi, che è bello. Che bello che ci siete ai, dovete caffè? Grazie, sì. O vuoi caffè? Fa fai, fa, fa. E va. È fatica, non ci dice i ragazzi. Ok, io sì, è fatica. Che a tutti, lo sape, fa e portino un po' che caffè. Ma di gattuga, sì sì. Signora, siete dei anticoli? No, io. Cosimo, tutto bene? Sia Yearita. Ah ok, ma non ci piace. questo bambino lo guarda sempre, lo guardiamo sempre e lo diciamo saluta saluta come è bello, siete proprio di qua signora, si di Castel di San Diego, che bello che sei sei uguale alla tua mamma gli occhi uguali a voi celesti celesti, ma fanno i trasi, prego potete entrare, si certo. Comunque mi faccio la Castel di San Diego, signorario che fai scato la neva, ho portato allegria, signore belle, ma non mi sono bello, ragazzi, ma non mi sono bello, noi siamo di Napoli, Siete in Napoli? Sì sì, di Castel di San Diego, siamo di Castel di San Diego, la signora abita qua, siamo venuti a trovare le sorelle, siete l'amica di Felicetta, che bella che sono Felicetta, siamo in Napoletano, siamo tutti bene, eh no no, 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 ah siete proprio di Napoli, però state casse qua, da quanti anni? Sì sì, sono venuto a trovare apposta perché sono 33 anni bene, mio signororario, ma fate frisci da 3 anni? Eh un po' di meno, noi siamo in Napoli, noi veniamo a Napoli, non vengono a Napoli, che bello, non fate un nipote, un nipote, mia nipote mi ha chiamato se voi facete bene e chi spuccava il luogo dei preti vengono a trovare poi a casa gente a me mi vanno bene e mi faccio voler bene sennò tutti questi belli gente la signora porta il suo figlio se io fossi una cattiva una monella una disgraziata come mi avete definito no non è vero non è vero ma ci mi si figgiamo di mio marito fate un po' zitto quando avevo già messo le cose dentro il mio negozio avevo un giacco di pelle pigiame però ragazzi mi hanno rinunciato una franella ma io non ho i fratelli che erano io mi spogliato una notte e mi sono scelto perché mi sono scelto perché mi sono scelto mi ha disegnato qualcosa quando mi sono scelto e mi sono scelto a casa mi sono scelto sento un rumore che ha portato a loro comunque andiamo avanti niente da fare comunque saluto a tutti quanti mentre vado al negozio di vita per riprendere a lavorare incontro lei laura la divina buonasera buonasera ti auguro a te ti auguro a te e fai buongiorno buongiorno e vieni qua buongiorno e vieni qua ragazzi non vuole venire ma sta giù buongiorno buongiorno e pace a fare un bello buongiorno buongiorno